A novembre 2015 il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente annunciava su Facebook di essere indagato dalla procura del capoluogo, specificando peraltro che si trattava di indagini preliminari e di non conoscere altri dettagli né tantomeno l'ipotesi di reato. Da mesi si rincorrevano voci di un ipotetico avviso di garanzia nei suoi confronti, un atto che però non è mai arrivato mentre è stato recapitato un avviso di proroga delle indagini. Dopo i sei mesi previsti dalla legge infatti, stanto a quando appreso e rilanciato da diversi media, il GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del PM Stefano Gallo, ha notificato a Cialente un'alta proroga delle indagini. Altri sei mesi per approfondire la posizione del primo cittadino e di altre due persone che sarebbero indagate, gli imprenditori Elisa Ioannini e per Giorgio Ruggeri. Tentata concussione e corruzione sarebbero, ma il condizionale sembra d'obbligo, le accuse emosse dalla procura. I dettagli della vicenda e dell'inchiesta sono coperti dal più stretto riservo, ma, stando almeno a quanto dichiarato dal sindaco in una intervista, tutto sarebbe legato a presunte irregolarità nei lavori di ricostruzione della sua abitazione privata. Una vicenda che si intrecerebbe, tra l'altro, con la tentata transazione per risolvere l'impasso sulla metropolitana di superficie. Al termine delle indagini, il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, potrà richiedere al GIP l'archiviazione o, se reputa, formulare invece l'imputazione, esercitando così l'azione penale. Nei prossimi mesi si saprà se si arriverà all'archiviazione o all'imputazione, con il PD che, nonostante Cialente è noto, non potrà candidarsi per aver raggiunto il numero massimo di mandati previsti dalla legge, dovrà affrontare una questione spinosa a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative. La lista civica Appello per l'Aquila torna a parlare della gestione dell'aeroporto dei Parchi a Preturo, nelle periferie a nord-ovest del capoluogo abruzzese. Come è noto, l'aeroporto ha vissuto in questi anni un periodo fortemente travagliato, tra fallimenti nella gestione dello scalo commerciale e inchieste giudiziarie. Pertanto Appello per l'Aquila chiede che la convenzione ventennale che il Comune dell'Aquila ha stipulato con la società di gestione Xpress sia sottoposta a revisione quadriennale per verificare l'attuazione dei programmi del piano degli investimenti e degli obiettivi previsti. Nella convenzione, infatti, è prevista una revisione quadriennale dell'attività del gestore. I primi quattro anni sono scaduti il primo marzo scorso. Vorremmo conoscere i motivi di tale mancanza e chiediamo che venga immediatamente effettuata la revisione, si legge nella nota di appello per l'Aquila. Chiediamo inoltre se sia stato costituito il previsto comitato etico e, in caso di risposta affermativa, da chi sia composto e quando si sia riunito. Da anni ci battiamo in tutte le sedi, prosegue la nota, per denunciare la follia della convenzione ventennale per la gestione dell'aeroporto di liberturo, che ha prodotto risultati disastrosi ormai sotto gli occhi di tutti. Al di là dello sperpero di denaro pubblico, è penoso vedere, infatti, che la nostra città surge alle cronache nazionali per vicende incredibili. Nella convenzione è previsto che il periodo di durata della stessa sia sottoposto a revisione quadriennale per verificare l'attuazione dei programmi, del piano degli investimenti e degli obiettivi previsti. L'esito di questa procedura può apportare a misure per l'adeguamento o la cessazione del rapporto. I quattro anni sono scaduti il primo marzo scorso e non ci risulta sia stato eseguito alcun processo di revisione. Vorremmo conoscere i motivi di tale mancanza e chiediamo che venga immediatamente effettuata la revisione. Chiediamo inoltre se sia stato costituito il previsto comitato etico e, in caso di risposta affermativa, da chi è composto e quando si è riunito. È francamente intollerabile che, dinanzi a un conclamato fallimento, l'amministrazione continua a perversare negli errori e non adotti tutte le misure a sua disposizione, previste nella convenzione, per mettere la parola fine a questa incresciosa vicenda. Dopo cinque anni dell'approvazione della legge regionale proposta da Rifondazione Comunista e mai applicata, radicali e rifondazione hanno chiesto a gran voce oggi, dinanzi a Palazzo dell'emiciclo, la nomina del garante dei detenuti. Tra i consiglieri sembra infatti non esserci convergenza sul nome della radicale Rita Bernardini, eppure rifondazioni radicali chiedono oggi di superare anche questo scoglio e, se necessario, proporre anche altri nomi, ma purché si arrivi alla nomina, oggi quanto mai essenziale. Pensavamo che con la candidatura da parte di Marco Pannella, di una personalità autorevolissima nel campo della questione del carcere, come Rita Bernardini, finalmente il consiglio regionale trovasse l'unità e procedesse rapidamente alla nomina. Purtroppo neanche questo è bastato. Adesso speriamo che, dopo tutto l'omaggio che l'Abruzzo e la società italiana hanno reso a Marco Pannella, anche tra i consiglieri regionali si abbandoni un atteggiamento di beghe. Io vorrei che il consiglio regionale risolveste questa situazione a questo punto imbarazzante. Ha sbagliato Marco Pannella nel proporre la candidatura migliore che si potesse esprimere, direi eccellente. Se ha sbagliato Marco Pannella lo dicano. E i consiglieri che finora si sono apposti alla candidatura di Rita Bernardini ne propongano un'altra. E conseguenza della mancata applicazione di questa legge è la violazione di diritti umani fondamentali. A rappresentare l'osservatorio carceri per la Camera Penale dell'Aquila, l'avvocatessa Aquilana Fabiana Gubitoso, che ha portato all'attenzione del Consiglio anche le oltre 250 firme raccolte nel carcere di Sulmona, affinché si provveda immediatamente alla nomina. Mai come in una regione come l'Abruzzo si sollecita questa figura, che sicuramente è una figura di riferimento per tutte queste persone ristrette. A me personalmente, come alle persone ristrette in Abruzzo, non interessa che la nomina sia quella di Rita Bernardini. Se questo nome può dare fastidio ai nostri consiglieri regionali, non ci interessa, purché si arrivi in tempi sicuramente molto brevi alla nomina di questa persona come punto di riferimento per tutte le persone ristrette. In tutto questo, l'associazione Nessuno Tocchi Caino ha organizzato per il 25 giugno alla Villa Comunale un sit-in per dire no alla tortura e no al regime di 41 bis. Il 14 giugno all'Aquila sarà celebrata la giornata mondiale del donatore del sangue, una giornata importante che in vista dell'estate serve soprattutto a sensibilizzare ancora una volta sull'importanza della donazione. In Abruzzo infatti è spesso emergenza sangue, dunque benvengano tutte le iniziative volte a supportare questa emergenza, che con la stagione estiva si fa sempre più pressante. Alla luce delle nuove normative europee, peraltro è necessaria la riorganizzazione della rete trasfusionale della regione Abruzzo. La giornata del 14 sarà importante per parlare della donazione del sangue in Abruzzo. La sala convegni dell'Ordine dei Medici, dalle 16 alle 19.30, ospiterà il convegno sulla giornata mondiale del donatore. Parteciperanno l'Avis Comunale con la sua presidente Maria Rita Cassiani, l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il presidente dell'Avis regionale Giulio Di Sante, il presidente dell'Avis provinciale Antonio Giulianella, il direttore del centro regionale sangue Pasquale Colamartino, il dottor Luigi Dell'Orso, primario di medicina trasfusionale all'ospedale dell'Aquila e Luciana Celeste, che parlerà dell'esperienza del Servizio Civile Nazionale e del volontariato in questo senso. La tavola rotonda finale sarà aperta a tutte le associazioni del territorio. Grazie a tutti!